Il Medioevo e le streghe. La persecuzione delle streghe è un fenomeno che si è verificato in Europa tra il XIV e il XVII secolo, durante il quale migliaia di persone, in gran parte donne, sono state accusate di stregoneria e condannate a morte, spesso sul rogo. Le origini. Le origini della persecuzione delle streghe possono essere fatte risalire al Medioevo, quando la Chiesa Cattolica iniziò a definire la stregoneria come un'eresia. Nel 1326, il Papa Giovanni XXII pubblicò la bolla Super Illius Pecula, in cui condannava la stregoneria come un peccato detestabile e un atto di lesa maestà divina. Nel 1484, il Papa Innocenzo VIII pubblicò la bolla Summis Desiderantes Affectibus, con la quale incaricava due frati dominicani, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, di scrivere un trattato sulla stregoneria, intitolato Malleus Maleficarum. Questo testo, che divenne rapidamente un best-seller, contribuì a diffondere l'idea che le streghe fossero una minaccia reale per la società e che dovessero essere perseguite con ogni mezzo. La caccia alle streghe. La persecuzione delle streghe raggiunse il suo apice tra il XVI e il XVII secolo, durante il quale si verificarono le più grandi ondate di processi e condanne. In questo periodo, la stregoneria fu considerata una minaccia non solo per la religione, ma anche per la salute e la sicurezza pubblica. Si credeva che le streghe fossero in grado di provocare malattie, aborti, tempeste e altri disastri naturali. Le vittime della caccia alle streghe erano in gran parte donne, che rappresentavano circa il 75% dei condannati. Le donne erano spesso accusate di stregoneria per motivi di discriminazione di genere, come la loro indipendenza economica o il loro rifiuto di sottomettersi alle autorità maschili. I processi. I processi per stregoneria erano spesso sommari e basati su prove insufficienti o contraddittorie. Le accuse erano spesso mosse da rivalità personali, gelosia o invidia. Le donne accusate di stregoneria erano spesso sottoposte a torture per estorcere loro una confessione. Le torture più comuni erano la corda, la gogna, la tortura dell'acqua e la tortura del fuoco. Le condanne. La pena capitale era la punizione standard per la stregoneria. Le donne condannate a morte erano spesso bruciate sul rogo, in un'esecuzione pubblica che aveva lo scopo di dissuadere gli altri dal praticare la stregoneria. La fine della persecuzione. La persecuzione delle streghe iniziò a declinare nel XVIII secolo, quando l'illuminismo diffuse l'idea che la stregoneria non fosse una realtà. Nel 1748, la Francia abolì la pena di morte per stregoneria e altre nazioni europei seguirono l'esempio. Le vittime. Il numero esatto delle vittime della caccia alle streghe è sconosciuto, ma si stima che siano state decine di migliaia. La maggior parte delle vittime erano donne, che rappresentavano circa il 75% dei condannati. La persecuzione delle streghe è un capitolo oscuro della storia europea. È un esempio di come la superstizione e l'intolleranza possano portare a tragedie indicibili. Le conseguenze. La persecuzione delle streghe ha avuto un profondo impatto sulla società europea. Ha contribuito a rafforzare il potere della Chiesa e dello Stato e ha contribuito a diffondere l'idea che le donne fossero inferiori agli uomini. La persecuzione delle streghe è un evento che non deve essere dimenticato. È un monito contro la superstizione, l'intolleranza e la discriminazione. Grazie a tutti.